È stata innanzitutto una campagna elettorale esaltante, entusiasmante. Ci siamo trovati in quattro cugini a competere nella lista di Progettiamo Santa Ninfa con l'Avvocato Carlo Ferreri che poi è risultato eletto. Siamo riusciti a portare in Consiglio Comunale il cugino Francesco Lasala con 250 voti esatti. Grazie anche all'impegno di Piero Spina, mio cugino, e grazie all'impegno anche di Federico Bellissimo, medico condotto a Santa Ninfa. È un mio ritorno in politica. Io ho fatto politica così a fasi alterne. Sono stato dal 91 al 94 consigliere comunale e poi successivamente anche assessore, ma soprattutto componente politico della Commissione Edilizia a San Vito Lo Capo e poi invece dal 2003 al 2008 sono stato consigliere comunale con la carica di vicepresidente del Consiglio proprio a Santa Ninfa. Io sono nato a Santa Ninfa e sono orgoglioso ora di poter fare qualche cosa, qualche piccola cosa certamente, per il mio comune. Ancora le deleghe non sono state affidate? Ancora le deleghe non sono state affidate. E segnalo anche come un'anomalia di base, in base alla legge elettorale, si è proprio determinata nel mio piccolo Paese. Ovvero sia abbiamo la maggioranza per quanto riguarda l'esecutivo, quindi il sindaco e gli assessori sono della lista dell'avvocato Carlo Ferreri, che è il sindaco, e invece la maggioranza consigliare è detenuta dall'altra lista, insieme per Santa Ninfa. Ma cercheremo, nonostante, di andare avanti, di governare, cercheremo anche, se possibile, e me ne farò portatore e portavoce nel prossimo Consiglio Comunale, di intavolare anche una minima discussione, una minima collaborazione, ciascuno dalla sua parte e ciascuno per la sua parte, senza essere associativi, con la lista insieme per Santa Ninfa.